Stiamo ragionando anche sul fatto se non vale la pena aspettare un po' per Piazza Venerio. Mancano pochi giorni all'incontro tra i commercianti di Piazza 20 Settembre e il Comune, che si terrà lunedì, a cui parteciperà anche il sindaco De Tonio, oltre agli assessori Marchiolle e Venanzi, e spuntano a Ring le prime indiscrezioni su quali potrebbero essere le proposte dell'amministrazione per venire incontro ai commercianti, che lamentano il calo del giro di affari, dovuto, a loro dire, all'introduzione della pedonalizzazione spinta e al taglio dei parcheggi in centro. Se guardate i numeri dell'occupazione dei parcheggi, Piazza Venerio, con tutti i problemi che ha, col fatto che si entra a contromano, con molti parcheggi bloccati, via dicendo, però, è tra i più utilizzati. Oltre al rinvio dei lavori al parcheggio Venerio, in attesa della conclusione di quelli in corso all'ospedale Vecchio, l'altra ipotesi che nasce da un'imbeccata di Salmè, raccolta da Scalettaris e Giacomello, è sulla ZTL. Perché non prendete esempio da tutte queste città dove voi governate e le ZTL sono regolate a fasce orarie? Ci avete mai pensato? Cerchiamo soluzioni che aiutino i cittadini. Non mi dica Scalettaris che è anche questo tra le ipotesi. Per quanto riguarda le ultime uscite che ci sono stati per la ZTL ad orario, è qualcosa di cui si dibatte da molto tempo, è qualcosa sulla quale anche noi abbiamo una proposta concreta e molto chiara, che però non è l'unica soluzione per arginare un momento così difficile.